Allora, se fai così, urli e tiri, non si sente dolore, eh. Un altro? È una bella tattica, però. Urli così, non senti il dolore. Ok, vai. Atta! No, questo faceva malissimo. Perché ne staccati tre? Te l'ho detto per fare a me. Vabbè, basta così, dai. Vaffanculo, toh. Te l'ho detto per fare a me, tu te le sei presi.